Il clima comunque è abbastanza di festività più che altro perché comunque c'è stata tanta gente che viene a vedere gli allenamenti o comunque seggiornate comunque di sole, i biglietti sono andati a ruba subito in due o tre giorni e quindi rimangono pochi posti dentro lo stadio. Noi siamo comunque cercando di lavorare bene perché non è una partita tempi, c'è un derby ed è una partita comunque sentita da tutti, si fa tutto anche da noi perché sentiamo comunque il colore della città che ci chiede un impegno ma forse maggiore rispetto agli altri partiti. Sicuramente è un'altra partita come le altre perché comunque a livello di punti si dà sempre tre i punti, se si vince o se pareggi sempre uno, loro si rilancierebbero ancora di più perché salirebbero comunque al quarto o al terzo posto. Noi con i tre punti diciamo che possiamo stare un pochino più sollevati perché veniamo da tre risultati utili, fare la terza vittoria di fila e comunque fare un bel salto in classifica. Però l'ho detto è una partita strana perché è un derby, è una partita comunque che tutti vorrebbero giocare e che ci saranno attenzioni comunque dai primi minuti che saranno le stelle. Tutti quanti sappiamo che per me personalmente è una partita molto importante e speciale. Ho aperto un conto e volevo chiedere questo conto bene, ma non solo io, tutti i miei compagni della squadra siamo consapevoli che è una partita molto importante, siamo consapevoli che per la gente di Terni, per la piazza, per questa città è una partita molto 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 significante e io spero di poter regalare questa gioia alla gente perché, ripeto, tanti momenti difficili, tante situazioni difficili che abbiamo avuto quest'anno, io penso che ci possiamo togliere e dobbiamo toglierci una bella sua situazione. Io ho detto oggi, ci è venuto Riccardo Zampagna, l'ho detto anche davanti ai miei compagni, che è venuto a sbagliare, è venuto a salutarci, gli ho detto al bomber che quando ho fatto questa cosa l'ho fatta senza pensare. Io sono un ragazzo molto istitivo, anche oggi, credetemi, io non l'ho fatto perché voglio dare qualcosa di poter dire, ma ho visto cosa ha fatto Vale, no, no, mi sono svegliato, a parte che mi devo fare i capelli, e ho pensato di poter fare questa cosa al mio parrucchiere, no? È una cosa molto spontanea, io spero di fare anche il sabato è una cosa molto spontanea, non lo so cosa sarebbe, però spero di fare una cosa spontanea. Io so che vuol dire giocare una partita, perché a partite di così e di questo genere ne ho giocate, ne so, so che vuol dire avere, non dico tanto la pressione, però il significato, in queste partite mi piace giocare, a me in queste partite sono partite che mi piace esserci e mi piace lasciare il segno. Se non sono io, ma magari fossero qualcun altro mio compagno, e rivelarci la vittoria ai tre punti, di poter vivere un'emozione, una gioia importantissima con la gente, con tutti quanti qui a Tern, sarebbe veramente più o meno vincere Scudetto. Dai, diciamo così.